Santina Amici, laureata in pianoforte presso un conservatore di Frosinone, sotto la guida del maestro D'Alessio. Ha seguito un corso di musica d'insieme presso l'associazione La Bottega dei Musici, con i maestri Magliocca e Bracchi. Ha svolto un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, collaborando con importanti associazioni musicali. Ha partecipato alla tournée teatrale Chanson des Billetis, suonando musiche di Debussy, dirette dal maestro Aletta, ottenendo consensi di critiche dalle pagine culturali di importanti giornali, come Tribune, Courier e Guardia. Ha animato la Messa presso la Basilica di Santa Maria Montesanto, Chiesa degli Artisti di Roma, sotto la direzione artistica del maestro Anne Resm. Nel novembre 2015 Santina Amici ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio di poesia 8 milioni 2015, che si è tenuta nell'isola d'Ischia, eseguendo tra l'altro il concerto Meravigliosamente Retro, con la cantante mirica Paola Occhi. Nel novembre 2019, in duo con la violinista Maria Luisa Neri, ha proposto a Milano due memorabili momenti musicali, nell'Auditore Un di Mare Culturale Urbano e nell'Aula Magna della Siam, Società d'Incorroggiamento Arti e Mestieri. Entrambe inserite nel palinsenso di questa stessa manifestazione internazionale Book City, come contributi musicali degli eventi proposti dall'Associazione Culturale d'Aischia L'Arte Vila.